Liberare Gabriele e con lui gli altri 150 giornalisti arrestati dallo Stato turco. Il caso di Gabriele del Grande, sequestrato in isolamento da 10 giorni, scuote le coscienze del paese. Il giornalista si trovava in Turchia dal 10 aprile. Blogger e regista, la sua attività è legata alla raccolta e documentazione di eventi riguardanti morti e naufragi di migranti nel Mediterraneo. In Turchia è stato fermato al confine di Atai, trasferito poi a Mugla, ha potuto mettersi in contatto telefonicamente con la propria compagna, solo 8 giorni dopo il fermo. Non sono note le cause del suo arresto e la comunità italiana si mobilita per chiedere la sua liberazione. A Pescara è stata indetta una marcia alla quale hanno aderito più di 30 associazioni. Togliere la libertà a una persona significa toglierla a tutti noi, e quindi chiediamo con forza che si attivino tutti gli strumenti internazionali perché Gabriele venga immediatamente riportato alla libertà, riportato in Italia. Noi quindi abbiamo organizzato questo presidio in cui saremo presenti numerosi e abbiamo lanciato questo appello a cui hanno risposto tutte le associazioni, i partiti della nostra città e anche a livello regionale. Quindi il presidio si svolgerà oggi pomeriggio alle 17.30 a Piazza Sacro Cuore. Le adesioni sono moltissime, certamente noi abbiamo il compito di sostenere le libertà individuali e collettive delle persone e dei popoli.